direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi giovedì 2 agosto il jackpot ha raggiunto la cifra di 21 milioni 379 mila 456 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 92 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 6 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 44 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 74 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 41 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 65 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 5 dopo i sei numeri che assegnano jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 61 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 6 44 74 41 65 5 numero jolly 61 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 20 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 92 in ordine crescente 5 6 41 44 65 74 numero jolly 61 superstar 20 l'estrazione di oggi giovedì 2 agosto termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 21 milioni 300 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 92 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super in allotto assegna 352 mila 781 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 21 milioni 300 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super in allotto non è stato realizzato ed il jackpot cresce ancora per arrivare a 22 milioni 400 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 5 e vincono 30.629 euro ciascuno i 4 sono 505 e vincono 358 euro ciascuno i 3 sono 18.438 e vincono 26 euro ciascuno i 2 sono 298.340 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 11.411 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 9 e vincono 35.851 euro ciascuno i 3 stella sono 115 e vincono 2682 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1772 stella 10 euro vanno ai 10.901 1 stella e 5 euro vanno ai 22.698 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi su Prenanotto vi dà appuntamento a sabato 4 agosto giocheremo per un gecko di 22.400.000 euro arrivederci a Chiara per l'appuntamento a sabato 4 agosto 2 a Chiara benvenuti a chiara la